E tornano gli atleti di Run for Yove, sentite. Loro hanno già vinto, hanno vinto il cancro e poi con forza hanno deciso di mettersi in gioco e ricominciare una nuova vita, correndo una sfida oltre i propri limiti. Sono le donne di Run for Yove, reduci della loro bellissima esperienza alla Maratona di New York, tornano a gareggiare per la ricerca e con loro ci sarà una nuova squadra di campionesse, anche loro guarite dal tumore. Sono qua con noi e questo giro da protagoniste, per fortuna di una maratona ben più bella, entusiasmante di quella che hanno appena finito di correre. Doppio obiettivo, doppia squadra, pronte a correre Valencia a novembre e poi la Maratona di Londra nell'aprile del 2018. La prima squadra è stata l'esempio che ha dato la forza ad altre donne che ora, dopo la malattia, sono pronte a combattere ancora. È un messaggio di speranza, è il messaggio che dice si può ricominciare. Insieme a loro ci saranno i medici dell'Istituto Oncologico Veneto che le hanno curate perché il legame di chi ha vissuto la malattia dai due lati della barricata rimane anche dopo la fine di un percorso. Correndo le donne hanno superato ogni limite e sono riuscite a raccogliere quasi 67 mila euro che oggi sono stati consegnati allo Yove e serviranno per la ricerca. È il momento di spingere con le nuove acquisizioni, con le tecnologie perché le cose stanno cambiando.